Oggi parliamo del fattore di crop. Che cos'è questo fattore di crop? Molto semplice, il fattore di crop indica il rapporto tra la diagonale di un normale negativo 35 mm e la diagonale di un sensore digitale. Detta così non è affatto semplice, o perlomeno bisogna magari avere un'attitudine più matematica per capire bene quanto abbiamo appena detto, ma il fattore di crop fondamentalmente è molto facile da spiegare. Chi si è avvicinato alla fotografia nel mondo analogico o a tutt'oggi lo usa ancora, è assolutamente abituato a sentir parlare di diversi formati di pellicola. Ecco che ci ricordiamo l'esistenza del normale, del formato 24x36 mm, quello delle nostre vecchie diapositive. Possiamo prendere una pellicola che abbia un formato diverso, quella del medio formato che può essere impressa in formati diversi a seconda della fotocamera, 6x4,5, 6x6, 6x7, 6x9 fino a 6x12 cm. Possiamo lavorare con pellicole da banco ottico, quindi pellicole del grande cosiddetto formato, in questo caso un 10x12 cm fino ad arrivare a formati anche 20x25 cm. Oggi è la stessa cosa, anche nelle macchine fotografiche digitali i sensori non sono tutti uguali e quindi il risultato di una determinata lunghezza focale nell'immagine che andremo ad ottenere sarà diverso. Il full frame, quindi quel sensore digitale grande come la vecchia pellicola, ovvero 24x36 mm, ci farà vedere la stessa immagine che noi abbiamo sempre comunemente visto in una pellicola analogica. Diversamente i sensori, ad esempio l'APS-C che è più piccolo di un sensore full frame, ci farà vedere un'immagine diversa, un'immagine ingrandita. Quindi è molto semplice, basta moltiplicare la lunghezza focale che noi stiamo utilizzando per 1,5, per 1,6, per 2, dipende dal tipo di sensore che noi stiamo utilizzando. Ovviamente a qualcuno tutto questo può non sembrare così chiaro. È semplice andare a vedere cosa succede in una fotografia. Ad esempio, in questa immagine che vedete, l'inquadratura è fatta con un 35 mm e un sensore full frame. Se noi avessimo utilizzato la stessa lunghezza focale, ma facendo impressionare la nostra immagine su un sensore più piccolo, questo sarebbe stato il risultato. Avremmo ritagliato una parte dell'immagine. Quindi, quando utilizzeremo le lunghezze focali su un sensore o su una pellicola full frame, il nostro obiettivo ci restituirà un angolo visivo standard. Diversamente, quando andremo a utilizzare delle macchine fotografiche con un sensore più piccolo del full frame, dovremo ricordarci che lo stesso obiettivo inquadra qualcosa di più piccolo e quindi la nostra immagine risulterà croppata. Ora, come avete capito, al di là della matematica, capire il fattore di croppa è semplicemente capire che un'immagine su una fotocamera full frame viene ripresa con un determinato angolo visivo e in una fotocamera con un sensore più piccolo questa immagine viene ritagliata e quindi ingrandita. Io vi saluto, vi auguro di scattare tantissime fotografie anche questa settimana e ci vediamo prestissimo. Ciao ciao!